Risotto ai funghi porcini e taleggio Il risotto ai funghi porcini e taleggio è un primo piatto ricco di sapori, di facile preparazione, ideale per le grigliate invernali, un bontà di sapori intensi per avvolgere il vostro palato. Gli ingredienti di questa ricetta sono tutti molto semplici, olio, cipolla, riso, sale, funghi porcini, prezzemolo, taleggio, vino bianco e pepe. Iniziamo con la preparazione della ricetta. In una pentola, fate soffriggere la cipolla tritata finemente con l'olio.Aggiungete i funghi porcini tagliati a fettine. Sottili.Fate rosolare il tutto per un paio di minuti.Aggiungete il riso e fate tostare per qualche minuto.Sfumate con il vino bianco e fate evaporare.Aggiungete un mestolo di brodo caldo alla volta e fate cuocere per circa 15 minuti.A cottura ultimata. Aggiungete il prezzemolo tritato, il taleggio a cubetti e mantecate il risotto.Servite il risotto ben caldo, guarnito con una spolverata di pepe.Il risotto ai funghi porcini e taleggio è un piatto semplice, saporito e davvero irresistibile.